Stai! 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 Semifinale! Dagli! Un'altra volta semifinale! Ancora semifinale! Dagli! Goh! Che bello è così Che cazzo d'è partita? Che bello è così Apriamo mezz'ora ragazzi Sì ma poi? Spaziale E poi? Ma Torah spettacolare E poi quanti altri minuti hai dovuto giocare con uno di meno? Allora Ci hanno avuto? Un'occasione d'oro Per ribaltarla 60 pieni più 12 di recupero No 13 di recupero 73 minuti 73 minuti totali in 10 contro 11 Mettetevi nei panni di un tifoso della Roma Che passa in doppio vantaggio E che poi si ritrova A dover giocare tutt'altra partita A dover fare questa partita Perché tu stasera Hai fatto una prestazione Con i controcoglioni C'è mondo le palle per fare ste partite in Europa Ancora Semifinale Ancora semifinale So tre anni che in Europa facciamo vedere quello che valiamo E ancora che non pede il cazzo che ci sottovalutate Ma lasciali parlare Sempre sta storia Lasciali parlare Lasciali parlare Che intanto noi so tre anni di fila So forti ce lo varte Le semifinali So tre anni di fila Che se fanno le semifinali Io vi dico solo questo Manca uno sputo a 500 57.000 iscritti Mancano pochissimi iscritti Ci avete un'ora di tempo Se entro mezzanotte Raggiungiamo quel numero Quel numero diventa 557.000 Io vi butto fuori la live reaction Subito Stasera immediatamente Seduta stante Approfittatene se ci seguite sempre Ma ancora non vi siete iscritti Ci abbiamo due canali Mi raccomando lasciate pure like Perché devono uscire un sacco dei contenuti Mi raccomando Due canali di calcio e un extra calcio In descrizione Compariranno qui durante il video Allora Punto numero uno Sì Tifosi del Milan Ci avete avuto la possibilità In questo scontro Dice se è passato un doppio vantaggio I gol l'avevamo fatti regolarmente Non c'era scandalo Non c'era calciopoli A sto giro Episodi dubbi Nella partita d'andata Ma vi ho detto Nel doppio scontro Ci avete la possibilità Nella partita successiva Deve far vedere se siete veramente più forti Stasera Roma ha dimostrato De essere stata superiore Abbiamo meritato il passaggio del turno Strameritato Non abbiamo rubato assolutamente nulla Strameritato Abbiamo Per quanto il Milan era partito meglio Nettamente meglio La parte meglio Ma tu dopo 12 minuti passi in vantaggio Fai l'1-0 Stavano a giocare meglio Sì sono d'accordo Stavano a giocare meglio Erano partiti con l'atteggiamento giusto Alla prima occasione Li fai fuori La butti dentro Subito Immediatamente Ti prende un palo pellegrini incredibile Da fuori area E ancora Mancini Ancora Mancini Ancora Mancini Ancora Mancini Ancora Mancini Sono tre gol di fila Mamma mia Il durello mi sa fa venire Mamma mia Non mi ero mai eccitato Ben maschio Non mi ero mai eccitato Forse per tutti Forse per tutti Forse per qualche manovaggio Lo stanno a far rivedere no Mamma mia Mo lo stanno a far rivedere Mamma mia E poi Vabbè Ecco La gioia Ragazzi Adesso il sinistro A chi dice che è un mezzo giocatore Che non è mai stato un grande giocatore Mamma mia Che sta più scocciato Che è integro Che è così Che è colà Per noi Per noi Poi se per voi fa schifo Non è buono Lo volete Non vi preoccupate Ce lo teniamo noi Ce lo teniamo noi Ce lo teniamo noi volentieri Ti fa il gol del 2 a 0 Che non dico che chiude la partita Ovviamente Perché poi succede quello che succede No la partita Non te la chiude Perché dopo 10 minuti Selic decide De commette una follia Perché trattasi di questo Sei male Tu sei male C'è chi ha detto Che l'espulsione È generosa È netta È netta Palla lontana Palla lontana Tu a voto Così con quello che è partito Che è annatopia E falci Ma che cazzo Te dice la capoccia Che poi tu pensa No Nella sfortuna Gli ha preso Il tacchetto dietro Cioè proprio All'ultimo secondo Disponibile All'appomisci L'intenzionalità Perché c'è Il contatto c'è Se tu lo riguardi Attentamente Ce va a pestenne È da russi Tu sta pure in porta tua Una cosa del genere E te cacciano E te sta pure bene E te devi sta pure zitto Ti ha cacciato Ti ha cacciato Con ragione Non puoi dire Basta Giusto Non giusto Non le devi fare Cazzate del genere Per quanto Selic Io ce tengo a dillo Mo a prescinde Che a sta partita Hai fatto una cazzata Ma io te ringrazio Per le partite Che hai fatto finora Esclusa questa Perché sei Esatto Sei stato finora E tu pensa Che alla prossima Che giocherai In semifinale Col Bayern Leverkusen Non ce l'hai Non ce l'hai Mo se siamo ridotti Cioè fino a 3-4 mesi fa Dicevamo Selic Non sapevamo manco Chi era Perché non giocava mai Mo ci ritroviamo A rimpiangere letteralmente Selic Che te manca la prossima Perché in Coppa Kristensen non ce l'hai Ma comunque Vabbè stava fuori dalla lista Karlsdorp è uscito Quasi dalle gerarchie Uguale Sei visto stasera Se non peggio di Selic De Kristensen Quindi raga Non so chi giocherà Ma non mi interessa E da pensacce Magari ne riparleremo poi Però aspetta Allora Te mancava Kristante Però stasera Vabbè sti cazzi Non è questione De Kristante Bob ha fatto la sua partita A me non mi interessano I singoli Le cose A me mi interessa E questa è la cosa Più grande Questa è la cosa Più bella È il collettivo Che fa la differenza Perché ragazzi Tu stavi in vantaggio De 1-0 Dell'andata Gliene hai fatti Due altre due decisioni Stavi in vantaggio De 3 Ma giocatela voi Contro il Milan Che è pur sempre Una squadra che va rispettata Perché è la seconda Della classe È la seconda In classifica in Serie A Non è una squadra Al Milan Dei vecchi fasti Negativi Che viaggiava Tra la settima E la decima posizione E non sapevano manco Loro Ad aggrappasse È comunque Una squadra Importante È una squadra Che in Serie A Quest'anno Ragazzi Ha fatto vedere cose importanti Ma io ribadisco Oggi In Serie A Siete superiori Lo dice la classifica In Europa Abbiamo dimostrato Siamo stati superiori noi Siamo stati più bravi Nettamente Perché poi vai a guardare Le occasioni pericolosissime Per il Milano Per quanto poi Ogni tanto Qualche spunto Tu ti sei dovuto Chiudere così dietro Che cazzo volevi fare Quali sono state Le azioni pericolose Pericolosissime Che se siamo cagati sotto Il gol Il gol La palla delle A Messa a mezzo Che è stata una bella Palla delle A Messa a mezzo Qualche sgroppata delle A Ovviamente Ma le occasioni pericolosissime Che svilare Palle sempre Che sfilavano sul fondo O in rimessa laterale Palle alte Ragazzi Tante responsabilità Una parata clamorosa De svilare Non me la ricordo Non manco io Io mi ricordo Invece un gol Magnato clamorosamente Da Ebram Che la spara alta A mezzo Che poteva essere terzo gol Spinazzola Lanciato da Escharawi Con il Milan Tutto scoperto Esatto Che la tira addosso A mezzo Su palo suo Io mi ricordo E Spinazzola Deve rallentare la corsa Perché quello A campo aperto Era un uno contro uno Con megnanne Più pericolosità Noi in ripartenza A giocare così Obbligati a farlo In dieci Piuttosto che l'opposto E io spero Che siate consapevoli De questo No ma io Spero che non continuiate A recriminare Gli episodi dell'andata Pseudo episodio Via dicendo E' passata la squadra Che ha meritato Di passare Abbiamo meritato Punto Non c'è altro Da aggiungere Secondo me C'è chi dice il contrario Se volete il video Dell'Atalanta Io credo che Sia ad obbligo Anche parlare Dell'Atalanta E' passata pure La Fiorentina Tanto per dire In semifinale Pure l'Atalanta 5 squadre in Champions Quest'anno Per i risultati Che sono accaduti No Si 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 ha detto L'Atalanta ha perso L'Atalanta ha perso Ma Quello era Prescindere Dai risultati Delle altre squadre Spadre inglesi E tedeschi Ragazzi Stiamo godendo Come dei ricci Stiamo godendo Come dei ricci Poi parleremo Di quel che sarà Del Leverkusen Che ha messo un record Ha messo un record Incredibile Perché ha pareggiato Lo affronteremo noi Un'altra volta In semifinale Ci rivediamo Dopo un anno In semifinale Della stessa comprensione Però Quante cazzo Di emozioni Contrastanti e negative Che abbiamo vissuto All'interno di questa partita I due gol di vantaggio E poi è cominciata Un'altra partita Cioè tu hai vissuto La partita Step by step L'arco del 10 minuti Io non c'avevo Il dodicesimo Primo gol Ventiduesimo Secondo gol Trentesimo Selic Spuz Comincia un'altra partita Io vi dico la verità Io vi dico la verità E mi è successo Poche volte In vita mia Forse la terza volta Che mi succede Io non c'avevo il coraggio Di guardare Il secondo tempo Io continuavo A guardare L'orologio Continuavo A sperare Che passasse il tempo E sto cazzo De tempo Che non passava È incredibile Quello che siamo riusciti a fare Già ad inizio partita Non c'avevo l'agitazione addosso E quando non c'avevo l'agitazione È sempre sinonimo De sensazioni positive Così è stato E il secondo tempo Nonostante Sapevo che potesse succedere Il padatracca Dal momento all'altro Alla fine L'avranno qui Non lo so Visto tutto Dai Semifinale Semifinale Semifinale